Buenos dias amici di Telenovela Serie TV, oggi parliamo di una telenovela messicana prodotta da Carla Estrada nel 1988 per Televisa, ovvero Amore in Silenzio. Uno dei melodrammi più ricordati della storia delle telenovelas messicane e vincitrice dei premios TV Novelas del 1989. TV Asteca ha realizzato nel 1999 una versione di questa telenovela dal titolo Habla Mediamor con Danna Garcia. Nel 2015 Televisa realizza una nuova versione dal titolo Achenomedecas con Camila Sodio e Osvaldo Benavides. Nel cast anche Arturo Penice e Erika Buenfil, due dei protagonisti della prima versione. E per oggi è tutto, vi do appuntamento a domani. Buenos dias!